Abbiamo già raggiunto il collega che questa volta da Roma ci aiuta a riscoprire questa lunga traversata verso Lisbona. Buongiorno a Daniele Rocchi, inviato del SIR. Grazie Daniele di essere ancora con noi. Buongiorno a voi dell'invito. Allora, noi abbiamo già pronto anche un contributo che sul sito di Lisbona 2023 fa bella mostra con un saluto. Vi aspettiamo, ma aspettiamo anche a mandarlo perché vorrei ricordare a tutti i telespettatori che i ragazzi in realtà fino al 2021, in questi giorni, erano protesi verso le loro singole GMG diocesane perché si facevano appunto nella Domenica delle Palme. Poi le cose sono cambiate. Vuoi riepilogare il perché, caro Daniele? Sì, Papa Francesco ha voluto spostare alla Domenica di Cristo Re la celebrazione delle giornate mondiali della gioventù perché le ha messe sostanzialmente in relazione, in sintonia con la giornata mondiale del povero. Sappiamo bene quanto Papa Francesco abbia in mente questa Chiesa in uscita, in uscita verso i poveri, in uscita verso le periferie. I protagonisti della Chiesa in questa uscita sono anche i giovani, quindi questa decisione nasce proprio da questa intuizione di Papa Francesco. Questa è una tua foto e la scritta è in polacco, com'è? Dunque, qui la foto è stata scattata a Panama. Quindi l'ultima GMG, ricordiamolo. L'ultima GMG, esattamente. Stiamo parlando del 2019. Esattamente. A Panama sono confluiti giovani da 160 paesi. Venne fatta in gennaio per motivi ovviamente di stagionalità per quelle zone. Questo penalizzò in qualche maniera, metto penalizzò tra virgolette un po' la parte occidentale, nel senso che per esempio gli italiani andarono solo in 900 a Panama. Cosa che invece normalmente gli italiani sono tra i contingenti più numerosi dei giovani che vanno alle GMG. Ecco, queste sono ancora delle immagini di Panama, centinaia di migliaia di giovani per tutto il mondo. Ed è stata una bellissima GMG che ha visto Papa Francesco protagonista insieme ai giovani. La GMG è stata, credo, la prima nel Centro America perché poi c'era stata quella di Rio precedente a quella di Cracovia, se ricordo bene. Insomma, l'intuizione che fu di Giovanni Paolo II è stata portata avanti anche da Benedetto XVI. E' stata portata avanti da Papa Francesco e praticamente ad agosto celebriè Malisbona l'edizione numero 37. Bene, io ho visto anche delle foto dove c'erano degli striscioni di colori particolari, di bandiere particolari. Tu, nell'arco, ecco, questo per esempio, Venezuela, credo, siano i colori, poi se leggo bene, hai notato una differenza, come dire, anche di difesa della propria identità a seconda delle GMG europee oppure no? Io ho avuto la fortuna, grazie a Dio, di seguire tutte le GMG dal 2000 ad oggi e ho sempre apprezzato la capacità di ogni paese e di ogni chiesa che organizza la GMG, la capacità di rimettersi in gioco condividendo le proprie specificità religiose, culturali, in una fusione veramente con i giovani che venivano da altre realtà e da altre chiese. La GMG, ecco, credo che sia veramente un esempio di come la chiesa e le chiese sappiano unirsi nel nome di Cristo. Ecco, questa è un'immagine che vorrei commentare perché qui ci sono dei giovani italiani, Don Michele Falabretti che è responsabile della pastorale giovanile, lo vedete in basso a sinistra nello schermo, qui siamo a Cracovia, siamo nella zona di Casa Italia, ecco, qui cominciamo a dare per esempio qualche piccola curiosità. Dicevo prima, ogni chiesa si organizza secondo dei propri stili organizzativi. Ecco, l'Italia ha fatto scuola da questo punto di vista perché la chiesa italiana è stata la prima ad inaugurare le case, Casa Italia, che sarebbe, chiamiamola così, una sorta di sede per i giovani italiani che vanno in GMG. Linguaggio sportivo, magliette da fan della Nazionale di Calcio, mi sembra. Sì, gli azzurri, chiaramente, abbiamo un po' replicato, esattamente, sì, abbiamo replicato i colori della Nazionale di Calcio. Sì, ma anche l'espressione, quindi troveranno anche a Lisbona Casa Italia i nostri. Assolutamente sì, assolutamente sì, si stanno già preparando i nostri giovani che arriveranno. Ora, fare e dare dei numeri in questo momento è forse un po' presto, però di sicuro saranno svariate decine di migliaia. Eccola Lisbona, la splendida Lisbona, veramente, mi dispiace non poter essere lì. Vi ricordo dal primo al 6 agosto, ovviamente qui ne sentirete molto parlare a Padre Pio TV con Fra Pasquale Cianci e tanti altri ragazzi. Intanto, direi, resta con noi naturalmente, Daniele, ad ascoltare appunto questo saluto che è stato messo sul sito ufficiale della prossima Lisbona 2023. Sentiamo. Ciao, mi chiamo Martina e questo è Minuto GMG, in cui scoprirai tantissime curiosità sulla giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023. Oggi, il 23 marzo del 1986, ha avuto luogo la prima giornata mondiale della gioventù a Roma, istituita da Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, conosciuto anche come il Papa dei Giovani. La GMG è l'incontro mondiale dei giovani con il Papa e si svolge ogni tre anni in paesi diversi e ha annualmente un'edizione diocesana. La GMG rappresenta uno spazio di condivisione della fede e della cultura con i pellegrini di tutto il mondo. Con più di 10 milioni di abitanti, il Portogallo si sta preparando ad ospitare la prossima giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona, dall'1 al 6 agosto 2023. Sarà una grande festa ed incontro per i giovani di tutto il mondo. Vogliamo che tu ne faccia parte. Se vuoi partecipare ed iscriverti come pellegrino o volontario, puoi andare sul nostro sito ufficiale oppure seguirci nei nostri social media. E facci sapere cosa vuoi sapere nei prossimi episodi di Minuto GMG. E una volta andare a Lisbona, per secoli è stato così, significava anche dare uno sguardo da quella celeberrima torre di Belem a quello che era il mondo ancora incognito. Adesso ovviamente non è più così, ma sicuramente c'è un mondo da scoprire ancora di più, proprio quello della capacità di Papa Francesco di motivare i giovani che in questo momento gli staranno mandando un fiume di amore e di preghiere. Assolutamente sì, ecco, vorrei usare l'immagine della torre che tu hai poco fa usato per raggiungere un particolare a questa GMG. Ecco, da questa torre si guarda anche al continente africano. Non è un caso che la croce e l'icona di Maria, che sono i due simboli che vanno in pellegrinaggio nel periodo precedente, negli anni precedenti alla GMG, siano partiti proprio dall'Angola, un paese che ha il Portogallo nel suo retaggio storico coloniale. Ma ecco, è un paese il Portogallo che guarda all'Africa e l'Africa guarda al Portogallo, almeno una parte di Africa. Ecco, questo è un particolare che io vorrei mettere in evidenza, perché fino ad oggi nessun paese africano ha avuto la possibilità, per svariati motivi, di ospitare la GMG. Ecco, il Portogallo si avvicina molto all'Africa, c'è un ponte che mi piacerebbe evidenziare in questo aspetto. Anche visivamente, grazie alla regia, abbiamo visto che differenza, insomma, tra la nostra cultura e sicuramente i portoghesi comunque sono stati anche, purtroppo, schiavisti, lo dobbiamo pur dire, o comunque hanno collaborato appunto alla deportazione forzata di tanti africani. Ci sono stati pontefici che hanno visitato proprio i luoghi da dove si partiva. Ma la riconciliazione, secondo te, in queste GMG, adesso anche le più recenti, che cosa avrebbe dovuto comportare e magari che cosa è l'occasione mancata? Ma guarda, io non parlerei di occasioni mancate, invece parlerei piuttosto di occasioni colte. Mi viene da pensare alla GMG di Cracovia. I giovani che sono andati a Cracovia... Ecco, ricordami che anno era, perché io non lo ricordo, ti confesso, o sennò lo chiediamo alla regia di darci uno sguardo. Credo fosse 2016. Ah, comunque molto recente. Sì, sì, recente. È l'ultima GMG che si è svolta in territorio europeo. Ecco, in quell'occasione molti giovani andarono ad Auschwitz, che è un luogo simbolo della storia d'Europa, ma non solo, storia mondiale. Ecco, ci sono dei passaggi nelle GMG che veramente hanno riletto in positivo anche vicende storiche molto negative. Quella di Auschwitz è un passaggio importante. Parlare di riconciliazione è fondamentale, perché molti giovani, molti giovani di paesi in conflitto si ritrovano alla GMG. Io prima mi davi, come dire, un assist per parlare anche della Terra Santa. Ecco, io ho visto in tantissime GMG giovani israeliani, giovani palestinesi stare uno a fianco all'altro in nome della condivisione della propria fede in Cristo. Le nazionalità, le ideologie non esistono quando si ha qualcosa di più bello e di più grande da condividere. Daniele, questo è un tema talmente fecondo, non solo dal punto di vista della gioia, ovviamente, di vedere, di scoprire quello che fanno i ragazzi e quello che ha inventato il grande Carol Voitiu appunto nel 2000, per cui già ti prenoto, non so ancora quando di preciso, magari cerchiamo di coordinarci per riparlare di questa, di fare una breve storia, insomma, di questi che sono anche pellegrinaggi dei simboli, come acutamente dalla regia sto vedendo. C'è il ricchissimo sito appunto che ci aiuta in tante cose. Però ti lascio 30 secondi per un tuo ricordo della prima GMG. Sì, io feci la mia prima GMG da ragazzo, parliamo della prima, diciamo quella che fu l'incubatrice della GMG. Dove tutto è nato, cioè a Tor Vergata. Nel 1984 in piazza San Pietro, era domenica delle palme, il 15 aprile, e il Giovanni Paolo II chiamò i giovani in un grande raduno in occasione dell'anno santo della redenzione. Ecco, il Papa consegnò in quell'occasione la croce ai giovani ed era la settimana dopo, il 22 aprile del 1984. Io mi ricordo perfettamente quel giorno perché ero con il mio gruppo scout a fare il servizio d'ordine e mi ricordo quelli che dovevano essere soltanto 60 mila giovani, ma che in quei giorni divennero 250 mila. Gli scarto sempre in prima linea. Li abbiamo trovati con Libera il 24 marzo scorso, meno di una settimana fa. Insomma, davvero siamo davanti ogni volta a dei filoni inesauribili. Però adesso assolutamente non posso più approfittare del tuo tempo e ti ringrazio facendoti un augurio affettuosissimo per Pasqua. Io mi ricambio l'augurio e ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie dunque a Daniele Rocchi. Ricordiamo sempre la Terra Santa in questi periodi così forti. In linea alla regia.